Caricadisti ed ecco una parte inedita di quello che è il paddock box dell'italiano vediamo il compleanno di Andrea Cesare Junior e di Edgar Mangelista Edgar Mangelista, l'ettone posto delle più belle donne del mondo io cerco di invitarmi ma non mi vogliono ed ecco gli auguroni un regalo a tuo padre per le belle donne signori finca passiamo a farioli un regalo che mi ha fatto da tuo padre quando gli ho rispetto che è arrivato il secondo cosa mi ha tirato dietro? e in cule! e in cule! e in cule! figaro! e in cule! e in cule! oh no! sto registrando! ma no ma nulla dai solo 6.000 utenti unici al mese signori anche in crossodio fate conto che questi ragazzi ogni volta che entriano in crossodio vanno veramente ma veramente forte almeno quando si esce un attimino di divertimento un ambiente gare veramente rilassato veramente lontano dalle malignità vediamo Franco Fratton Andrea Cesari Senior Edgar Mangerist Andrea Cesari la Cesarina il Franco Fratton che sta pregando il pilota di tagliare che vuole mangiare la torta cut the cake senti qua l'inglese e alla grande adesso è il momento del taglio della torta ma vai primo taglio vai primo taglio guarda cos'ha imbranato questo pilota qui a tagliare nooo bravi signori da quaddisti.it dal paddock dell'italiano quadcross internazionale un saluto qualcosa di carino ci vuole il paddock ci vuole signori dal vostro ferro da quaddisti.it con la torta di compleanno di Andrea Cesari ed Edgar Mangerist non è il compleanno è per il secondo posto per il secondo posto io già non capisco mi ha fatto bere il vino ciao boy